Per la realizzazione di questo programma siamo venuti in un istituto di ricerca nel settore lattiero caseario presso il quale si sta conducendo un esperimento. L'obiettivo fondamentale consiste nel massimizzare la qualità e la quantità del latte. Il nostro interesse sarà rivolto a due aspetti del metabolismo intermedio. Un disordine metabolico che provoca a volte nelle mucche una riduzione nella produzione del latte e le tecniche normalmente utilizzate per tracciare nelle piante la principale via metabolica, la fotosintesi. Alcune di queste tecniche vengono oggi utilizzate per tracciare il metabolismo intermedio nella produzione del latte. Per diversi anni gli scienziati hanno cercato di comprendere il modo in cui le piante sintetizzano i loro composti chimici e come gli animali che si cibano di queste piante riescano a derivare l'energia necessaria per le loro esigenze. Dal 1913 per studiare la circolazione nelle piante si utilizzano isotopi radioattivi del piombo. Ma per ricostruire i cicli metabolici nelle cellule era necessario un isotopo stabile del carbonio. Bombardando l'azoto con neutroni prodotti dai reattori nucleari, nel 1940 i fisici hanno prodotto un isotopo stabile del carbonio, il carbonio 14, che ha un periodo di dimezzamento di oltre 5.000 anni. Questo stimolò la ricerca, poiché i biochimici potevano usare questo potente marker per contrassegnare le molecole e seguirne i percorsi attraverso le piante e gli animali. Verso la metà degli anni 40 furono scoperte nuove tecniche per separare ed isolare molecole di diverse dimensioni. Queste servirono ai biochimici americani Calvin e Bessen per studiare la via metabolica della fotosintesi. Si sapeva che le piante catturano l'energia luminosa e producono zuccheri, ma Calvin e il suo gruppo individuarono nella fotosintesi il punto in cui il carbonio atmosferico veniva incorporato dalla pianta. Un'importante scoperta, poiché la fotosintesi è il processo che permette la vita di piante e animali. Gli esperimenti si articolarono in quattro fasi. La prima coinvolgeva delle colture cellulari. Calvin utilizzò per i suoi esperimenti la chlorella, un'alga verde monocellulare. Queste cellule singole erano preferite a quelle delle piante superiori, perché si potevano fissare rapidamente con alcol a diversi stadi del processo fotosintetico e potevano essere coltivate in quantità. Dopo avere scoperto che le reazioni fotosintetiche avvengono a grandi velocità, gli esperimenti furono condotti ponendo molta attenzione ai tempi di reazione. La fotosintesi veniva iniziata in una soluzione neutra, in cui gorgogliava anidride carbonica non marcata. A questa soluzione veniva aggiunta contemporaneamente dell'anidride carbonica marcata con l'isotopo radioattivo C14. Ogni quattro secondi dei campioni venivano raccolti e trasferiti in provette contenenti alcol bollente per fissare le cellule e quindi arrestare quasi immediatamente la fotosintesi. Così si avevano a disposizione i campioni nelle diverse fasi del processo fotosintetico e si poteva seguire la sintesi di nuovi composti radioattivi da uno stadio all'altro. Anche solo dopo cinque secondi dall'inizio della fotosintesi, le alghe mostravano già diversi tipi di composti radioattivi. Nello stesso periodo si era sviluppata una nuova tecnica chiamata cromatografia bidimensionale su carta che rendeva possibile la separazione di piccole molecole. Un estratto di alghe era posto su un foglio di clorofilla e con un getto di aria calda si evaporavano l'alcol e l'acqua. Una miscela di inchiostri colorati può aiutarci ad illustrare meglio il processo di separazione. La ripresa a fotogrammi singoli mostra che il solvente cola sul foglio per gravità. Le molecole si separano in base alla velocità a cui migrano sul foglio. Ruotando poi la carta di 90 gradi si separano i pigmenti usando un secondo solvente. Per evitare l'evaporazione i cromatogrammi vengono messi in un'atmosfera satura d'acqua in camera umida a temperatura costante. Dopo diverse ore i fogli vengono girati di 90 gradi e sottoposti ad un secondo solvente. Due composti che migrano alla stessa velocità in un solvente possono migrare a diverse velocità in un altro solvente. Il cromatogramma viene quindi posto a contatto con una pellicola raggi X per localizzare le posizioni dei composti radioattivi. Dopo un'esposizione di molte ore la pellicola viene sviluppata. Sui negativi le posizioni dei composti radioattivi appaiono come delle macchie nere. Queste foto, chiamate autoradiografie, hanno permesso di avere una disposizione sequenziale dell'ordine in cui appaiono i composti fotosintetici. I composti sul cromatogramma non sono visibili ad occhio nudo, ma possono essere localizzati per mezzo di un congegno chiamato rivelatore di radiazioni. La piccola dose di radioattività presente sul foglio non è dannosa. L'autoradiografia viene confrontata con il relativo cromatogramma. In questo modo si possono localizzare con precisione i composti radioattivi. Il passo successivo è quello di segnare la loro posizione e ritagliare i singoli pezzi di carta. A questo punto i diversi composti possono essere eluiti e raccolti in provette per essere successivamente analizzati. A quei tempi l'identificazione mediante le tecniche chimiche comuni non era facile, ma fortunatamente i chimici riuscivano spesso a risalire al tipo di composto presente. Essi mescolavano il campione radioattivo sconosciuto con sostanze chimiche conosciute. Questa miscela veniva poi sottoposta a cromatografia bidimensionale con diversi solventi. attraverso un'autoradiografia era possibile individuare i composti radioattivi sconosciuti. Uno speciale reagente spray rendeva visibili i composti non radioattivi conosciuti. Poi, confrontando le posizioni e le forme dei due composti sulla pellicola e sulla carta, si poteva dire se si trattava delle stesse sostanze chimiche o meno. Questa è dunque la tecnica. E l'esperimento ha dimostrato che gli scienziati sono riusciti a localizzare la radioattività durante la sequenza degli eventi delle vie fotosintetiche. Dopo due secondi dall'inizio dell'esperimento, il 70% della radioattività si localizza in un composto a tre atomi di carbonio, detto acido trifosfoglicerico, che chiameremo PGA. Poco dopo, la radioattività è stata trovata anche in due altri composti a tre atomi di carbonio, la gliceraldeide trifosfato e il suo isomero, il diidrossiacetone fosfato. Dopo un altro po', la radioattività è stata trovata in un altro composto, e precisamente un composto a sei atomi di carbonio, uno zucchero. Proseguendo l'esperimento per un tempo superiore ai 30 secondi, i ricercatori scoprirono che in alcuni di questi composti si verificava un aumento della radioattività. Perché ciò possa avvenire, è necessario che il processo sia ciclico, e inoltre bisogna che più di un atomo di carbonio 14 sia presente in alcuni composti. Ma vorrei sottolineare un aspetto di questo esperimento che riveste particolare importanza. L'essere riusciti a isolare la molecola che ha reagito con l'anidride carbonica presente nell'atmosfera. Per molto tempo si era cercato un composto a due atomi di carbonio che combinandosi con l'anidride carbonica generasse un trioso. In realtà si trattava di un composto a cinque atomi di carbonio, chiamato ribuloso di fosfato, che reagendo con l'anidride carbonica generava due composti a tre atomi di carbonio, due molecole di PGA. Il catalizzatore biologico di questa reazione è la ribuloso di fosfato carbossilasi, probabilmente l'enzima più abbondante nel mondo. Marcare le molecole con isotopi radioattivi ha rivelato qualcos'altro. Dividendo le molecole in singoli atomi di carbonio, si è potuto individuare la posizione del carbonio 14 nella struttura di ciascuna molecola. In questo modo si è potuto capire il tipo di reazione che si stava verificando. Per esempio, questo zucchero ha un'attività qui. Gli atomi di carbonio 3 e 4 suggeriscono una reazione di condensazione tra una molecola di aldeide e una di chettone. Questo ci suggerisce il tipo di enzima implicato, che in questo caso è una aldolasi. Il gruppo di Calvin ha trovato del carbonio radioattivo in molti altri composti. Questa via lineare è solo una frazione delle numerose vie interconnesse che costituiscono il metabolismo intermedio di animali e piante. L'uomo non dispone degli enzimi necessari per convertire in maniera efficace le piante in energia. Perciò necessita di convergenti biologici come queste mucche, che sono in grado di produrre un nutriente facilmente utilizzabile, il latte. Questo latte ha veramente un buon sapore. Quest'altro invece ha un odore proprio sgradevole, sa dissolvente per smalti, infatti contiene acetone. Ciò significa che qualcosa non va nella mucca, che c'è un disordine metabolico. Si tratta di chetosi, che provoca la comparsa di acetone nel latte. Purtroppo la chetosi si verifica più frequentemente nelle mucche che producono elevate quantità di latte. Per capire come ciò avviene, è necessario studiare il funzionamento di un grande caseificio. La produzione lattiero-casearia di questa fattoria implica un notevole giro d'affari. Ma per essere competitivi bisogna essere efficienti. Mentre le norme CE si prefiggono il controllo della qualità del latte, nei caseifici l'obiettivo è di raggiungere il massimo della produzione. Le mucche da allevamento sono molto diverse dalle loro antenate allo stato libero, che producevano latte solo per nutrire i vitelli. Se vogliamo che le mucche diventino più produttive, dobbiamo alimentarle secondo una dieta corretta. Una mucca è un ruminante. Si nutre, cioè, di una notevole quantità di erba, che digerisce nello stomaco, costituito da un'enorme sacca a quattro scomparti, contenente una sviluppata flora batterica, in grado di digerire i polisaccaridi come la cellulosa, producendo molecole più piccole. Grazie a questo processo, la mucca assorbe nella circolazione sanguigna aminoacidi, acidi grassi e glucosio. Queste sostanze possono avere diversi destini. Essere bruciate come combustibile per generare energia, oppure servire per formare le proteine muscolari. Essere conservate come energia nel tessuto adiposo o nutrire la prole sotto forma di latte. La massima produzione giornaliera di latte è di circa 85 litri, equivalente al contenuto di questa pila di bottiglie. Per produrre questa quantità di latte, la ghiandola mammaria della mucca utilizza quasi 5 kg di glucosio, 3 kg di aminoacidi e 3 kg di acidi grassi. Per produrre tutto questo latte, ben 40.000 litri di sangue devono passare attraverso la mammella, le cui cellule sintetizzano le molecole ad un ritmo di 20 per 10 alla terza ogni secondo. Su scala mondiale, la maggior parte delle mucche produce mediamente circa 40 litri di latte il giorno e quindi deve ricevere un'adeguata dose di proteine, di grassi e di aminoacidi. Uno dei punti critici nell'alimentazione delle mucche è stabilire il corretto apporto di glucosio, riducendolo diminuisce la quantità di latte. È stato dimostrato, usando del glucosio radioattivo, che questo viene quasi completamente utilizzato per la produzione del lattosio, il principale disaccaride del latte. Avete visto come gli zuccheri entrino nel ciclo di riduzione del carbonio nelle piante? Ora vedremo come sono trattati gli zuccheri nel metabolismo della mucca. Sintetizzare il lattosio è abbastanza semplice, poiché è un disaccaride, cioè un composto formato da due zuccheri semplici, una molecola di glucosio, che è uno zucchero esoso ciclizzato, e una molecola di galattosio. Nonostante la mucca assorba nel rumine il glucosio presente nell'erba, questo non è sufficiente per produrre tutto il lattosio, perciò deve essere sintetizzato ex novo, partendo da sostanze che sono assorbite come acidi grassi e aminoacidi. La via di produzione del glucosio, chiamata gluconeogenesi, comincia dal ciclo degli acidi tricarbossilici, che è il principale sistema generatore di energia. Gli acidi grassi vengono metabolizzati fino a formare acetilcoenzima A, un composto a due atomi di carbonio. Questa molecola guida il TCA, o ciclo degli acidi tricarbossilici. Una molecola di acetilcoenzima A si combina con una molecola di ossalacetato, per formare una molecola di citrato, un composto a sei atomi di carbonio. Il ciclo è credita di due atomi di carbonio sotto forma di anidride carbonica, per riformare una molecola di ossalacetato, che è quindi pronta per iniziare un nuovo ciclo, combinandosi con un'altra molecola di acetilcoenzima A. Inoltre, un solo giro di ciclo genera molte molecole di ATP. Gli aminoacidi possono unirsi a questo processo catabolico in diversi punti. Alcuni di questi entrano sotto forma di piruvato, un composto a tre atomi di carbonio, mentre gli altri entrano direttamente nel TCA. Quando il glucosio viene utilizzato come fonte energetica, passando attraverso la glicolisi, esso entra nel TCA come acetilcoenzima A. Il processo opposto, la gluconeogenesi, che è il processo anabolico di formazione del glucosio, segue una via leggermente diversa. Esso inizia con la conversione dell'ossalacetato in fosfoenolpiruvato, una fase che non prevede forme intermedie quali il piruvato o l'acetilcoenzima A. In realtà, queste fasi sono tutte a senso unico e gli enzimi che catalizzano queste reazioni sono tipici dei due processi. Tutte le fasi dal e verso il lattosio sono reversibili. I modelli fluidi possono essere utilizzati per descrivere alcuni aspetti del metabolismo intermedio all'interno delle cellule. Per esempio, immaginate questo modello all'interno di una cellula della ghiandola mammaria della mucca. Questi tubi rappresentano le vie dirette dagli enzimi, mentre qui e qui ci sono due valvole che rappresentano i punti critici di controllo di queste vie. Le sostanze come gli acidi grassi e gli aminoacidi che vengono assorbiti dall'apparato alimentare della mucca vengono convertiti in acetilcoenzima A che si accumula in questa vasca. L'acetilcoenzima A scorre in questa direzione e si condensa con una molecola di ossal acetato del ciclo degli acidi tricarbossilici. Un giro di ciclo rigenera l'ossal acetato che reagirà con un altro acetilcoenzima A e contemporaneamente produrrà l'energia necessaria alla mucca. Inoltre da questo ciclo la mucca prende l'acido ossal acetico che seguirà questa via verso la biosintesi del glucosio, del galattosio e infine del lattosio, il disaccaride del latte. Nelle mucche in circostanze normali questi livelli sono bilanciati e tutto funziona per il meglio. Ma nelle mucche altamente produttive una grande quantità di ossal acetato viene prelevato dalla produzione del latte e il suo livello comincia a diminuire. Ciò significa che quando questo livello cala non c'è abbastanza ossal acetato da combinare con l'acetilcoenzima A e il livello di questa sostanza in questa vasca comincia ad aumentare notevolmente. Poiché il ciclo non produce un gran numero di ATP in quanto sta girando male, la mucca ha un deficit di energia e quindi metabolizza il grasso per produrre più acetilcoenzima A che si accumula ancora di più nella cellula, sebbene la mucca possa gestire dell'acetilcoenzima A attraverso la formazione di corpi chetonici richiesti da alcuni tessuti. Ma questo vasto eccesso di acetilcoenzima A produce fin troppi corpi chetonici che fuoriescono dalla cellula ed entrano nel flusso sanguigno e quindi nel latte. In questo caso la mucca è in chetosi. L'appetito diminuisce, non mangia e la produzione del latte cala. Come si può risolvere questo problema? Assicurandosi che ciascuna mucca segua un'alimentazione corretta, cioè una dieta che fornisca abbastanza glucosio piuttosto che acidi grassi o amminoacidi. Dopo tanti anni di ricerca siamo riusciti a selezionare latte di prima qualità. Perciò non possiamo più affidarci al naturale controllo metabolico della mucca per regolarne la produzione. Quando tutto funziona per il meglio la mucca è sana, il produttore è soddisfatto e voi avete la vostra porzione giornaliera di buon latte. Grazie a tutti.